Questa sarà la vera stella di Agri Varese 2011, la mucca margherita, un animale del tutto simile a una mucca vera in vetro resina. Abbiamo approfittato della sua presenza in Fiera Varese per cercare di conoscerla meglio. Una mucca margherita che piace tanto ai bambini, come per esempio ci racconta questa bella bambina che si chiama? Giorgia. Giorgia, invece tu sei? Sara. La mucca margherita ti ha aiutato a scoprire come si fa a mungere una mucca, vero? L'hai fatto per tutto il giorno qui alla Fiera di Varese. È stato divertente? Sì. Senti, ci fai vedere come si fa a mungere una mucca? Magari ci facciamo aiutare da Alessandro, dell'Associazione Allevatori della provincia di Varese, protagonista. Intanto voi potete iniziare il vostro lavoro. Che cosa succede, Alessandro? Sì, buongiorno. La mucca margherita si presta, e io sono la sua spalla, praticamente ad avvicinare i bambini a questo atto che è la mungitura. Ed è qui come promozione, giustamente, di Agri Varese, dove ci saranno le sue compagnie, chiaramente dal vivo, Vare, Vitelle, Caprette, Asini, Cavalli, dove tutti i bambini si possono avvicinare a loro anche con i percorsi tematici legati a quella giornata. Bene, vediamo in azione queste due bellissime bambine. Allora, che cosa state facendo? State facendo il latte. State facendo il latte. Ed è divertente. Sì. È la prima volta che avete la possibilità di conoscere come si fa veramente a mungere un animale, un'esperienza importante per questi bambini, i bambini della città, che si accostano al mondo rurale della provincia di Varese. Sicuramente la mucca margherita è un'esperienza che ormai c'è da qualche anno. Si presta, essendo un animale similvero, ma abbiamo portato alcune modifiche come poter mungerla e anche un audio. Quest'anno porta il messaggio, a parte l'avvicinamento dei bambini con l'atto della mungitura, ma anche un messaggio ecologico, con il discorso di questo buono, che intanto è una promemoria per giorni 8 e 9 ai giardini estensi a Grivarese, ma anche perché consegneremo, consegnando questo buono, la bottiglia di vetro, in accordo con la Cama di Commercio in provincia di Varese, con la mucca margherita sigligraffata, bottiglia di vetro che permette l'uso plurimo della bottiglia, quindi per più volte, per latte, quindi in questo caso, ma anche per acqua e quant'altro. Allora, la mucca margherita, la vera star di Agri Varese, vi aspetta l'8 e il 9 ottobre ai giardini estensi.